ah ma ah vi ho fatto quello abbiamo fatto questo ora dobbiamo fare quell'altro secondo me in questo vediamo solo il deposito il deposito di fanfine o un po di vita perfetto adesso ci sarà un altro combattimento più forte più andiamo avanti più diventa impotente il combattimento vedo la luce ma le di viva due le di vive ho preso dell'argento no no ok una è morta l'altra è morta ok ci ha fatto poco danno intanto abbiamo dei pezzi di vita qua quindi possiamo recuperare possiamo fare cose insomma vediamo cosa mi dà squame di serpente nel mondo ok poi possiamo correzione 1165 d'argento anche qua no non devo prendere la vita vabbè ne abbiamo tante di vita qua quindi fammi questo 1296 d'argento quanto ne abbiamo d'argento? 165.000 quindi per prendere delle pietre assolute noi ce le abbiamo ciò che magari in futuro dovremmo pietre di accesso di fanfine dovremmo dovremmo fare degli acquisti importanti poi quando andiamo nelle prossime difficoltà non starò qui a leggere le descrizioni delle... 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 oh sto... sto spiegando c'è un altro? oh ah c'è uno dietro non... non starò qua non starò qua aspettative basse sempre all'attacco per un attacco l'equilibrio è fragile aspettati il peggio non presumere niente anticipa sempre l'attacco non è poco da ricordare vabbè comunque non è... non spiegherò non leggerò più non spiegherò niente cercherò solo di completare il gioco in quelle difficoltà lì mi hai detto qua ci sono i simboli e quindi sarà molto più veloce il gameplay non ci saranno momenti fermi, momenti morti momenti in cui starò fermo cioè cercherò di fare una specie di speedrun a episodi cercherò di andare veloce insomma non sarà più un po' di aviation c'è perché un po' di reaction c'è sempre però quattro simboli abbiamo qua adesso quindi andiamo verso la hits verso la hits c'è anche un... un trident vedi adesso sto qua a guardare le cose e i dettagli però quando sarà la prossima... la prossima difficoltà non... non starò qua a guardarli ci dovrei andare... leggiamo un po' più veloce lufo! lufo! aia! aia! lupi 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 Ancora niente Solo una sala Lo so che non dovremmo sperare Ma credi che la troveremo No, no Acce di suente morbido Pezzo di scuola Allora, la furia non la prendo Perché sono al massimo Mi servirebbero dei pezzi di vita Ma dovrebbero essere qua fuori i pezzi di vita Aspetta, fammi aprire sta roba Se ci è un pezzi di vita va fuori Ecco, infatti Perfetto Ok Dai, sono andato abbastanza bene Cioè, potevo andare veramente molto peggio Come i gameplay Sto cercando di essere più montaneo Più, altra vita Sto cercando di essere più inconveniente Sto cercando comunque di No, non prendere quello Devi prendere questo per terra Anche se qua non ci torneremo Quindi non cambia niente Pite l'accesso di Fafnia E sto cercando di morire meno volte possibile Ovviamente Cioè, sto cercando di relazionare tutto E respetare meno E poi dopo E di gestire gli episodi bene Perché sto caricando uno o due A settimana E sto cercando sempre Di proseguire con la serie Guardate questo Ok, qua dovrebbe essere più importante Come via, no? Dovrebbe Eserci più roba Cioè, è una bussola d'oro Quindi dovrebbe darmi qualcosa di leggendario Qualcosa di potente Pensavo che il deposito di Fafnia E fosse più grande No, c'è un boss Quale è un'arena così C'è un boss Quindi Poi ecco il fortello leggendario Ah, tre uso non andare in mezzo Perché sono messo un boss Io prendo il fortello leggendario Ok L'abitaglia 3 si blocca Ogni 110 secondi Quindi È un po' difficile da utilizzare Iri dell'antico e leggero Fa vedere Ah, leggero di più Spezzata di Udgar Fai vedere la spezzata di Udgar Ok Il rosso e bianco A parte queste abilità Che io non me le ricordo Quindi Iri dell'antico e leggero Sembra abbastanza potente Questa non sturdice niente Però fa Fa una potenza incredibile Buona 59 secondi di ricarico Buono Buono Fa vedere Queste sono Sono comuni No? Sono comuni Sono di realità non male Sono spirito E quindi Quindi non c'è un boss Mi aspettavo un boss Da queste parti Qua c'è C'è l'acqua Che cade dai posti L'acqua Siamo degli dei Parla con la finita del fredone I bottini di faccio Stiamo cercando una cosa L'hai vista? Altra che Ce n'è nulla in questa stanza Mio figlio ci ha filato la sua data Poco prima di colpellare la mia schiena Cosa? Ah si? Tu fai? Allora pensava che toccassi a lui I guidare a mio gruppo Ero duro con lui certo Forse non dovresti prendermi Ho coltellato mio padre Quando avevo la sua Allora è Allora è il genetico Dove si trova? Potrei essere un bastardo Ma il mio Non avrete alcun aiuto da me Illusi Allora la sua baga ci aiutala Ehi! Quella è lì! Ehi! Avanti ragazzo Ce ne andiamo Vettiamo in vecindri Un altro orco No Due Mi sei pazzo Due orci Ho una vita verde L'altra vita gialla Io direi che quello che con vita verde L'ha scoppito prima Perché può andare su prima Alla furia non l'ha utilizzata Oh no Non volevo fare questo Volevo usare la sua abilità Qua c'è un pezzo di vita Allora c'è il boss qua C'è il boss No ci sono anche quelli Ma sei pazzo Ma sei fuori Già è difficile sconfiggere queste Oh Vai va 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 Ho stivato quello dietro E ho cercato questo Incredibile M-R1 per attrappare Vai muori Muori Ok è morto Uno è morto Il loot lo prendiamo dopo No Muori tu No Ok Mi avete detto nei commenti Di usare di più la hit Ah ma le origine a lui Di usare di più la hit Quindi cercherò di usarla di più Vai vai La uso sempre adesso E' il triangolo che non mi viene in mente Di No E' il triangolo che non mi viene in mente Di ritirare l'ascia Aia Aia Mi sono Ah è un pezzo di vita lì Ok Qua la vita mi serve tutta Ah ma dal lago vengono fuori Non dal mostro Dai Eh sì io scrivo ma Ma allora questo qua vuole morire o no? Eh grazie eh Grazie per essere morto in fretta Oh la vita mi serve tutta qua eh Oh che schivata Pararsi non serve Perché questo orco ti distrugge A me serve un gorilla ma E' un orco Quindi Vai 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 Guarda come cambino Abbiamo parito tantissimo Aia che male Abbiamo aperto la bocca Che male Molto difficile Due orchi C'è incredibile 2062 Buono buono Accello di svolgente morbido Più 5 Vita Che vabbè potrei evitare di prendere Svolgione di serpente del mondo Simbolo del coraggio Più 1 E l'altro l'ha giunto ucciso qua Quindi Andiamo a prendere la roba Argento Buono Accello di Svolgione di Svolgione di Svolgione di fame morbido Questa volta l'ho letto bene Svolgione di serpente del mondo Più 6 Quindi dobbiamo tornare qua Per essere il babè Sapete come E quindi Ci dai qualcosa? Nel fortiere non c'è niente Questo qua è morto davanti al fortiere Cioè voleva prendere un premio Ma non c'è Niente Non dobbiamo fare niente Dobbiamo tornare la sindri Perché la cote non c'è La nostra cote Non c'è Ok Dobbiamo tornare da sindri Noi siamo lì E facciamo tutto il giaggio Per tornare indietro Non c'è Noi siamo lì Ma non c'è Noi siamo lì inspiringi La nostra cote Direzione ci vuoi